Nel basket, fino al momento topico dei playoff, la cosa che più conta è quella di provare a portare a casa i due punti. Per fortuna non è solo l'estetica a fare la differenza e la fortitudo, sudando ben oltre le proverbiali sette camice, è comunque riuscita a chiudere il girone d'andata al secondo posto dopo aver battuto Mantova, conquistando anche le final eight di Coppa Italia per la prima volta negli ultimi tre anni. Un traguardo raggiunto, tornando ai 40-20 minuti di domenica scorsa, sfruttando più che la lunghezza di un roster pur privo dell'infortunato Cinciarini, la rabbia e la grinta di alcuni giocatori è il fattore paladozza, consueto sesto uomo casalingo per i bianco-blu. Terza vittoria consecutiva che dà grande morale, i problemi rimangono, ma cercare di superarli con un gruppo compatto e alla classifica che sorride può riuscire più facilmente, come sottolinea coach Bonicciolli. Abbiamo la presunzione di pensare che essendo, ribadisco, secondi in classifica, con quattro sconfitte, tre in trasferta a Treviso, Trieste e Montegranaro, che non mi sembrano onestamente rocca-cannuccia, rocca-cannuccia al mare e rocca-cannuccia sotto i monti. D'accordo, abbiamo tre e una partita dove il deliquio ci ha colto, ci ha colto che è stata quella con Ravenna. Siamo secondi a quattro punti da Trieste, due punti davanti alle terze, ci alleniamo bene e abbiamo fiducia. Non c'è tempo però per rifiatare, venerdì sera con diretta su TRC la Fortitudo sarà già chiamata a confermarsi in un altro big match contro l'ostica Udine di Lino Lardo. Si farà di tutto per rimettere in piedi i cinciarini dopo la lesione subita contro Roseto e si cercheranno di smaltire gli acciacchi dei vari Legion, Pini e Rosselli.